OST è il punto di riferimento per il mondo ORECA, un must per tutti gli operatori professionali del fuoricasa e il luogo privilegiato per conoscere le novità delle aziende e capire le nuove tendenze del mercato. Dal 20 al 24 ottobre Milano diventa ancora una volta capitale dell'accoglienza professionale. 14 padiglioni che integrano le filiere produttive e di servizio comuni valorizzando la specificità di ogni settore e ogni singola azienda per garantire così la massimizzazione dell'investimento. Grazie.